Musica Bentornati, il nostro territorio si trova a metà strada tra l'alta pressione africana e correnti occidentali più fresche ed umide. In mattinata avremo un cielo parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti associati a qualche piovasco più probabile sui monti. Nel pomeriggio in pianura la situazione migliorerà ma ci sarà il rischio di pioggia. In serata ancora parecchia nuvolosità sui monti, possibili rovesce temporali sparsi in estensione alle pianure limitrofe. Temperature in leggero calo. Con questo buon proseguimento. Arrivederci.